si è ufficialmente chiusa la sessione estiva di mercato 2022 e io mi pongo subito parto subito con una domanda a voi ma me la pongo anche a me stesso si poteva fare qualcosa di più in questo mercato e la risposta me la do subito me la do subito di impatto e rispondo di no seconda domanda si poteva avere meno sfortuna probabilmente sì perché è una sfortuna che diciamo che ci rincorre per la seconda annata di fila per il secondo mercato estivo di fila perché dico questo perché un anno fa successe con spinazzola all'europeo e lì cambiarono le strategie di mercato l'uscita di zeca due settimane dall'inizio del campionato e lì si stravolse il mercato quest'anno che cosa è successo e parlo di sfiga che neanche due settimane dall'arrivo prende e poi c'è pronti e via se rompeva in aldum e ricambiano le strategie di mercato la roma aveva pianificato il suo finale di mercato con l'innesto di l'entrata di belotti e un difensore perché quest'anno le prorogative erano un centrocampista di spessore e un difensore dal piede mancino che cosa succede prendi il centrocampista si rompe dopo due settimane dall'arrivo e il finale di mercato cambia ancora una volta la roma chiude belotti e va bene ma è costretto a fare un vice un vice vanaldume perché vanaldume rientrerà a gennaio 2023 quindi io personalmente per come sono fatto io vi dico una cosa un pensiero semplice una constatazione semplice a mio avviso a questa società ai freckin gli va solamente detto grazie vanno solo ringraziati e a tiaco pinto e io sono uno di quelli che questa sessione noi gliel'avrebbe mai fatta fare faccio tre passi indietro chiedo scusa e gli dico bravo perché ha condotto una sessione estiva di mercato e greggia non fa il bene solo della roma sul campo ma lo fa anche a livello societario perché la roma sotto la lente di ingrandimento del fair play finanziario deve recuperare dei paletti imposti che erano tra i 40 e i 50 milioni di euro e con tutto il mercato fatto da pinto in uscita riesce ad appianare quei paletti che erano imposti che doveva rientrare per forza di quei soldi la roma l'unico crucio lo possiamo notare l'unica leggerezza il crucio è clivert un acquisto fatto un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni più un 20 per cento sulla futura rivendita purtroppo è saltato per i problemi burocratici il visto non l'hanno voluto comunque non l'hanno accettato e non gli hanno dato il visto per lavorare l'unico crucio ma vedere questo mercato nella totalità io onestamente parlando tra entrate e uscite non mi sento al direttore alla roma stessa di dargli meno di 10 ma non sei esagerato no perché se guardi le entrate mi viene all'occhio un dibala mi viene all'occhio un vainaldum e un vainaldum mi viene all'occhio un andrea belotti e che qualche tempo fa qualche tempo fa qualche mese fa se a qualcuno noi gli diceva no ma te immagini caro ma pia di bala e venaldum uno se sarebbe messa a ride non ci avrebbe mai creduto e invece è stata realtà più tutte le uscite la zavorra impossibile diavara sta gente così riccardi bianda corice che probabilmente si due che sono rimasti e non si sono accasati rescinderanno ma c'hanno il contratto in scadenza 2023 se ne andranno da svincolati ma gente come riccardi diavara bua gente che non se voleva non se ne voleva andare solo se chiedavi capito la buona uscita è cosa che la roma non ha fatto è riuscire a sfanculargli ugualmente probabilmente quindi io posso dire bravo veramente bravo al direttore perché ha fatto il bene su tutti i fronti della roma e ha reso più forte questa roma rispetto a quella della stagione scorsa e non mi dimentico gli acquisti de matic de selic il secondo portiere svilar un prezzo un pre un possibile un possibile solbacca in a zero visto l'accordo di ferro che mi hanno riconfermato poi vediamo come andrà a finire ma di un solbacca in svincolato che ti entra a zero a gennaio se voleva fare del più ci si aspettava del più perché ci si aspettava il difensore ma le situazioni vanno capite la roma non è che non ha voluto per intenzione farlo o non ha voluto far contento il proprio allenatore ma proprio murigno stesso nell'ultimo post conferenza della partita col monza in casa l'ha detto siamo sotto la lente di ingrandimento del fair play che poi qui se cominciamo a parlare di fair play potremo parlare un'altra ora e mezza vorremmo fare un'ora e mezza dei video perché sto fair play funziona per tutti per tutti per in italia funziona per la roma per l'inter e per milan per resto d'europa per squadre come il tottenham che c'ha un miarde otto dei buffi miarde ser barcellona lì non ci vanno mai a bussare qua per 50 euro che vengono a bussare capito c'è una finanza caro plano dentro casa dove parcheggiano però non mi vado a aprire sto discorso murigno l'ha spiegato la roma ci aveva le mani legate in questo finale del mercato e nonostante tutto voleva non poteva e si è dovuto attenuare le regole per non avere problemi anche se il suo in questo mercato a livello di bilancio l'ha fatto l'ha fatto e come smaltendo soprattutto il monte in gaggi perché l'ha abbassato e di parecchio anche con l'ultima uscita la sminut dei clai per tar valencia per il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni euro e oltretutto gli ha rinnovato pure il contratto al 2025 a clai perché nell'eventualità valencia tanto 15 in vita a giugno prossimo rista qui c'ha altri due anni di contratto e te lo vuoi sempre vendere bene sperando che si valorizzi ancora meglio il valencia ripeto io non c'ho da muovere non riesco a muovere critiche verso questa società che a due anni il 18 agosto io non lo scordo hanno fatto due anni di presidenza e di proprietà della roma e ci hanno regalato un trofeo che mancava da 14 anni un nostro il nostro primo trofeo ci hanno regalato l'opportunità di avere in panchina qui alla roma uno dei più grandi allenatori di sempre del mondo del calcio e tra l'altra sessione e soprattutto questa ci ha fatto godere dell'opportunità di vedere vestire la nostra maglia a campioni del calibro come vainaldum a gente come dibala a gente ci metto in mezzo pure lo stesso matic questo sempre grazie alla pille di un allenatore importante però quell'allenatore che dà credibilità alla roma e al suo progetto io non muovo critiche il difensore non è stato fatto si troveranno alternative si torna a giocare a quattro e risparmia un difensore o ci ha dato uno spinazzolo o un vigna come terzo a sinistra o un casdorp come terzo a destra le soluzioni fino al primo ottobre che ritorneranno con bulla e sciarabio qualcosa toccheranno in tasse è fortuna che c'è pure la sosta di mezzo quindi non è che saltano sti infinità di partite io ripeto grazie roma e ripeto chiedo ancora scusa al direttore e gli dico bravo per il grande operato che hai fatto per la roma a livello di società e a livello di campo fatemi sapere la vostra che è sempre ben accetta vi leggo tutto fatemi sapere se siete soddisfatto o no se siete d'accordo con me un bel pollicione e se vedremo più tardi in live sulla chat viola che vi aspetto dai e sempre forza grande roma